Michael Schumacher, novità sulle condizioni di salute dell'amatissimo pilota di Formula 1 Salta fuori tutta la verità, il segreto, ritorno in vita fa commuovere i fan Arriva la prova schiacciante che lascia di stucco Michael Schumacher letto quotidiano.it Come sta oggi Michael Schumacher? Viene fuori tutta la verità, dopo tempo, il ritorno, segreto, alla vita fa emozionare tutti? Ecco le ultime novità che vi lasceranno senza parole Michael Schumacher, il terribile incidente che ha cambiato la sua vita per sempre Era il 2013 quando i telegiornali di tutto il mondo annunciavano il terribile incidente subito dall'ex pilota di Formula 1, Michael Schumacher Lui, che dopo il ritiro dalle corse aveva deciso di dedicare del tempo a se stesso e alla sua famiglia Si trovava sulle Alpi Francesi, più precisamente a Mary Bell, quando a seguito di un fuoripista, ha battuto violentemente la testa su alcune rocce Michael Schumacher letto quotidiano.it L'esito purtroppo è stato drammatico Il campione ha riportato delle importanti lesioni cerebrali È stato obbligato a sottoporsi a lunghi e pericolosi interventi chirurgici Addirittura, è rimasto in coma farmacologico per oltre sei mesi Oggi è ancora in fase di riabilitazione, la sua battaglia continua ma lui come ha affermato la sua famiglia È un leone e tutti si augurano di vederlo presto in pubblico, informa più che mai Attualmente Schumacher vive a Mallorca insieme alla sua famiglia dove, circondato da un team di medici e fisioterapisti cerca di ritornare a condurre una vita normale Proprio dalla famosa isola arriva una verità che lascia tutti senza parole Ecco il segreto, ritorno in vita del famoso campione di Formula 1 Salta fuori la verità, ritorno alla, normalità, per il campione di Formula 1 Michael Schumacher Arrivano novità interessanti sulle condizioni di salute dell'ex campione di Formula 1 Finalmente sta iniziando a riprendersi, la sua salute migliora giorno dopo giorno Michael Schumacher letto quotidiano.it a farlo sapere è la sua famiglia, in particolare Corinna sua moglie, e sua figlia Gina Michael è diverso ma è ancora con noi, facciamo di tutto per migliorare le sue condizioni, per assicurarci che sia suo agio e per fargli sentire la presenza della nostra famiglia Il nostro amore, sebbene la famiglia Schumacher abbia mantenuto in tutti questi anni un profilo basso dando col contagocce notizie sulle condizioni di salute dello sportivo Arriva ora una prova schiacciante che fa bene sperare tutti Le parole di sua moglie fanno intendere ai sostenitori di Schumacher che finalmente la situazione sta cambiando e che a piccoli passi, il campione sportivo sta trovando la strada segreta per ritornare alla vita Ma non è tutto, c'è un altro dettaglio che lascia tutti senza parole Solo qualche giorno fa proprio Corinna si è congratulata con Jean-Toth che ha assunto la carica di presidente della FIA Ma anche Michael Schumacher ha voluto far sentire il suo sostegno colui che è stato e continua ad essere un pilastro importante della sua vita Tutto il meglio da Michael e dalla famiglia Schumacher Questo è il primo messaggio pubblico nel quale si menziona anche lo sportivo, segno che davvero forse sta iniziando a riprendersi I fan si augurano di poterlo vedere il prima possibile tornare alla normalità Grazie a tutti